E' stata rintracciata alle 8 di questa mattina nei pressi dell'isola ecologica del comune di Montiodorisio la signora tedesca di 74 anni, residente in provincia di Campobasso, che ieri pomeriggio intorno alle 18 aveva chiamato il 112 dei carabinieri per chiedere aiuto, dopo essersi persa con la propria auto mentre si dirigeva verso Gissi. Per tutta la notte i carabinieri della compagnia di Vasto hanno coordinato le ricerche della donna, a cui hanno collaborato anche i militari delle compagnie e carabinieri di Atessa e Ortona i vigili del fuoco di Vasto, la guardia forestale di Gissi, Lanciano e Ortona personale dei vigili urbani dei comuni di Montiodorisio e Casalbordino e personale della protezione civile di Vasto e Casalbordino La 74enne, che soffre di problemi motori, aveva spiegato agli operatori del 112 di essere uscita dal casello autostradale Vasto Nord ed aver percorso diversi chilometri in direzione del comune di Gissi. Giunta però in una strada secondaria a causa della fitta foschia, si era resa conto di essersi persa e nel tentativo di fare inversione di marcia con la propria Toyota Yaris, era rimasta impantanata, non riuscendo più a scendere dalla macchina. In contatto telefonico con i carabinieri della centrale operativa di Vasto, fino a quando il suo cellulare non ha smesso di funzionare. La signora ha atteso per tutta la notte che il consistente dispositivo di uomini messo in campo per le ricerche riuscisse a localizzarla su un'area vasta, all'incirca 20 chilometri, e che si estende dal lido di Casalbordino fino al comune di Gissi. Malgrado la donna avesse detto ai carabinieri di trovarsi in una zona pianeggiante, circostanza che per diverso tempo ha fatto concentrare le ricerche nella zona a valle, la signora è stata rintracciata grazie anche alla caparbietà e al sacrificio del personale operante, che non ha trascurato alcun dettaglio, non molto distante dal centro abitato di Gissi. Nonostante la disavventura e la temperatura fredda della notte, la donna era in buone condizioni di salute. Dopo aver bevuto una tazza di tè caldo, la donna è stata però ugualmente trasportata dal personale del 118 presso l'ospedale di Vasto per essere sottoposta ai dovuti controlli medici. Grazie! Grazie! Grazie a tutti.